Da omicidio colposo a omicidio preterintenzionale, è cambiato il capo di accusa per la guardia giurata che lo scorso 25 aprile investì e uccise con l'auto di servizio un uomo di 48 anni, Vito Sacco, che aveva appena messo a segno una rapina ai danni di un chiosco di panini gestito da un cinese in via Toscana, nella zona del macrolotto 1. Le immagini delle telecamere e il risultato dell'autopsia hanno evidentemente convinto il sostituto procuratore Antonio Sangermano a rivedere l'intestazione del fascicolo che aggrava così la posizione della guardia giurata. La rapina al chiosco fruttò pochi spiccioli, un bottino davvero misero, con il gestore colpito alla testa e ridotto in gravi condizioni. Vito Sacco agì con due complici, un italiano e un marocchino, arrestati successivamente ma nella fuga rimase indietro imbattendosi nell'auto della guardia giurata che ha sempre detto di non aver mai avuto l'intenzione di investire l'uomo. Le immagini prelevate dalle telecamere delle fabbriche situate nei pressi del chiosco mostrano l'impatto e l'auto che non arresta subito la sua corsa ma trascina il corpo della vittima. Poi la macchina si allontana ed è per questo che al vigilante viene contestata anche l'omissione di soccorso. Le indagini della squadra mobile partirono dalla rapina finita male, pista che col passare delle ore e grazie alle immagini fissate dalle telecamere di sorveglianza lasciò il posto a una storia completamente diversa. Il vigilante voleva fermare il rapinatore, un tentativo concluso tragicamente.